Intanto oggi siamo contenti di poter presentare questa relazione conclusiva, la prima volta che una commissione di inchiesta regionale termina una commissione con una relazione. Verrà presa d'atto in consiglio regionale nelle prossime settimane, è un lavoro importante e complesso, anche perché la commissione si svolge soltanto per sei mesi. È un lavoro che fotografa alla perfezione anni e anni, spesso anche di abbandoni, di ritardi, di impedimenti, alla bonifica, al diritto alla salute, al diritto al risarcimento che è ancora pendente in una causa di un processo ordinario di fronte al Tribunale dell'Aquila. e ha tante, tante domande da parte dei cittadini, non solo di Bussi, ma di tutta la Val Pescara, perché il sito di interesse nazionale è un sito di 232 ettari che interessa 11 comuni, tra cui anche il comune di Chieti. Poi il grande assente, il fiume Pescara, che passa e prende origini da quei territori e che in realtà non viene considerato parte di questo sito di interesse nazionale. Questa fotografia traccerà il lavoro prossimo, futuro, di tantissimi appassionati, di tanti abruzzesi che si sono spesi per il sito di interesse nazionale, per le persone che purtroppo ci hanno lavorato ed oggi non ci sono più, ma anche per il Consiglio regionale e per il Ministero, a cominciare dal ristabilimento dei fondi stanziati con la legge 10 del terremoto, a seguire rispetto alla sentenza del 13 maggio, che verrà decisa tra qualche giorno a proposito delle aree 2A e 2B, a degli interrogativi che ancora rimangono aperte, per esempio per le aree dell'ex Folgene e dell'ex Iprite, cioè dove svolgono i capannoni, a seguire con Piano d'Orta, dove bisogna risolvere il problema della sede della vecchia Montecatini, e a seguire con tutte quelle aree, a cominciare da quelle che si trovano di fronte alla stazione di Bussi, dove sono stati eseguiti gli stessi rinvenimenti presenti nell'area Tremonti, e per continuare su tutte quelle aree che sono parallele alle sponde del fiume Pescara fino ad arrivare a Piano d'Orta. La Commissione si è occupata anche del diritto alla salute, io ritengo che sia un pezzo importante di questa relazione. Non c'è ad oggi uno studio epidemiologico scientifico che valuti tutto questo, però la Commissione ha preso atto di uno studio del 2015 in cui sono state verificate nei territori di Bussi e di Popoli le neoplasie. Si sono registrati 66 casi in più rispetto a quello che prevede l'AIRTUM, che è l'associazione che si occupa del registro dei tumori. È una relazione importante, sono numeri importanti perché negli altri comuni invece sono leggermente inferiori del numero medio che è indicato da questa associazione, però non c'è una correlazione tra questi rinvenimenti e l'esposizione ambientale. Avremmo veramente necessità che a distanza di tutti questi anni venga commissionato uno studio epidemiologico serio, scientifico, che valuti un po' Bussi e Popoli, ma anche tutte le altre utenze che hanno fatto utilizzo dell'acqua estratta nei pozzi Sant'Angelo.